Buongiorno a tutti, sono Jan Rosler e lavoro come istruttore tecnico presso la SMA Solar Academy. Oggi vi mostrerò come installare il nuovo Sunny Boy Storage 5.0. Questo inverter con batteria è progettato per aggiungere una o più batterie ad alta tensione a impianti nuovi o preesistenti. Sunny Boy Storage 3.7, 5.0 e 6.0 sono inverter con batteria monofase collegati sul lato CA e destinati al funzionamento in parallelo alla rete. Il processo di installazione è molto facile e può essere eseguito da una sola persona. Cominciamo vedendo quali componenti sono forniti in dotazione. Innanzitutto abbiamo la guida rapida, che vi semplifica le operazioni iniziali. Sul retro potete trovare tutte le informazioni che vi servono per la connessione dell'inverter e poi per la connessione a Sunny Portal. C'è inoltre uno spazio libero per prendere nota delle password di installatore e utenti che si possono impostare durante la messa in servizio. Qui c'è una busta di componenti da usare per completare l'installazione. All'interno troverete una seconda busta contenente i terminali CA, CA per la connessione alla rete pubblica e CA per Secure Power Supply. Quattro jumper per i terminali CC. Tre connettori di interfaccia per la comunicazione con la batteria. Sulla sinistra c'è il connettore di interfaccia per la connessione dell'interruttore di Secure Power Supply. Sulla destra il connettore di comunicazione per il sistema di backup opzionale. Qui ci sono anche i componenti per usare il collegamento PE opzionale, ovverichiesto dagli standard locali. Abbiamo poi il supporto da parete. E infine... Abbiamo l'inverter. Qui troviamo tutte le connessioni. Sulla sinistra ci sono i morsetti di collegamento per la batteria. Poi il morsetto per la comunicazione della batteria. Qui sotto ci sono le prese Ethernet. E qui sopra i collegamenti CA per la connessione alla rete elettrica. E sulla destra, la porta di connessione Secure Power Supply. Vediamo ora quanto è facile montare l'inverter a parete. Il supporto da parete deve essere fissato con almeno tre viti. Qui io l'ho già fatto. Quindi ora montiamo l'inverter sulla parete. Per montare l'inverter consiglio di tenerlo leggermente inclinato per connettere prima la parte inferiore. Dopodiché, fissate l'inverter al supporto con la vite M5 in dotazione. Inserite il cavo CA nel pressacavo. E spellatelo per poterlo inserire correttamente nel terminale CA. Anche qui l'ho già fatto. È più facile se per prima cosa collegate il connettore CA all'inverter. Va serrato con un cacciavite a taglio da 3,5 mm. Colleghiamo ora il cavo CA al connettore CA. Potete usare un cacciavite a taglio da 3,5 mm per allentare il connettore e assicurare un collegamento ohmico affidabile. Il conduttore di protezione deve essere collegato separatamente ad un morsetto di messa a terra fra la rondella e la linguetta di fissaggio. Serrate poi la vite con un cacciavite Torx TX25. Prima di cominciare il collegamento dei cavi della batteria, dobbiamo inserire i jumper nei terminali CC. A tal fine, seguite le raccomandazioni contenute nella nostra informazione tecnica per Sunny Boy Storage, batterie omologate e collegamento della comunicazione con la batteria. Nel nostro caso, le istruzioni per una batteria LG CEM Resu 10H. Qui abbiamo i cavi provenienti dalla batteria. Controllate la polarità e collegate il cavo CC corretto a ciascun morsetto CC. Tutto quello che ci serve per la comunicazione fra l'inverter e la batteria è questo cavo di comunicazione CANBUS. Se non è fornito in dotazione con la batteria, SMA raccomanda di usare un cavo di tipo CAT 5E o simile. Tenete presente che il cavo non è fornito in dotazione. Fate passare il cavo nel pressacavo. Collegatelo al connettore di interfaccia della batteria come illustrato nella guida rapida e nelle istruzioni del produttore della batteria. Inserite il connettore di comunicazione della batteria nella presa BAT1 finché non si innesta. Premete la guaina del cavo dati nel morsetto di schermatura. Basta fare così. Per questo tutorial abbiamo scelto la batteria LG CEM Resu 10H. Qui potete vedere l'unità di collegamento già precablata. La batteria LG CEM, naturalmente, non è l'unica batteria ad alto voltaggio con cui Sunny Boy Storage può funzionare. Si possono connettere anche altri tipi di batterie ad alto voltaggio, come ad esempio la batteria BYD, B-Box High Voltage. Per realizzare il collegamento di rete, fate passare il cavo attraverso il pressacavo. Inserite il connettore RJ45 del cavo di rete nella presa Ethernet finché non si innesta in posizione. SMA raccomanda di collegare il cavo di comunicazione proveniente da SMA Energy Meter o Sunny Home Manager direttamente all'inverter. I collegamenti a Internet e alle piattaforme di monitoraggio online di SMA possono essere realizzati tramite la connessione Wi-Fi integrata o una seconda presa Ethernet. Il nuovo Sunny Boy Storage è dotato di Secure Power Supply, che vi consente di alimentare una presa anche in caso di blackout. Se avete bisogno di un'alimentazione garantita senza rinunciare al comfort, potete scegliere anche un box di backup opzionale, disponibile anche per impianti già esistenti. Nel nostro impianto usiamo Secure Power Supply. Ho già montato e cablato una presa da parete con un interruttore aggiuntivo standard, ad esempio un interruttore della luce. L'interruttore è necessario per consentire il funzionamento di Secure Power Supply. In generale vi servirà un cavo a tre fili per il collegamento CA di SPS e un cavo a due fili per l'interruttore. Nel nostro esempio, per semplificare il cablaggio, ho scelto solo un cavo a cinque fili del giusto diametro. Inserite ora il cavo nel pressacavo desiderato e collegatelo ai connettori. Anche in questo caso collegate per prima cosa il connettore CA di SPS all'inverter. A tal fine usate un cacciavite a taglio da 3,5 mm. Il conduttore di protezione deve inoltre essere collegato a un morsetto di messa a terra. Manca ancora il connettore di collegamento con l'interruttore. Collegatelo quindi all'inverter sul gruppo di comunicazione. Accertatevi di udire il clic di innesto per essere sicuri della corretta installazione. Ora possiamo completare l'installazione chiudendo la cover inferiore dell'inverter. Avvicinate la copertura all'unità di collegamento e collegate il cavo del display nella presa sul gruppo di comunicazione. Posizionate la cover inferiore tenendola leggermente inclinata. Serrate tutte le viti in maniera incrociata. Per semplificare l'installazione vi consiglio di serrare prima le viti al centro. Una volta completata l'installazione, possiamo serrare i dadi di tutti i cavi. Ecco fatto! L'installazione fisica di Sunny Boy Storage con Secure Power Supply integrata è completa. Ora l'inverter deve essere messo in servizio tramite l'interfaccia utente online e registrato su Sunny Portal. Potete guardare un video su come effettuare la messa in servizio del vostro Sunny Boy Storage cliccando sul link nella descrizione qui sotto. Spero che questo video sia stato utile per illustrarvi come installare Sunny Boy Storage. Il mio nome è Jan Rosler, istruttore tecnico presso la SMA Solar Academy. Grazie dell'attenzione!